ciao e ben ritrovati nella nostra rubrica segreti da maestro oggi parleremo del massaggio posturale siamo sempre in compagnia di due massaggiatori professionali il nostro angelo e la nostra imma che ci presta come modella in questa occasione il massaggio posturale una pratica che prevede trattamenti mirati per intervenire sulle principali sofferenze muscoloscheletriche causate da un comune nemico la postura scorretta primo segreto da maestro il professionista che pratica massaggio posturale è un ottimo osservatore ovviamente per praticare bene questo massaggio non serve solo approfondire le proprie conoscenze di anatomia concentrandosi sulle nozioni scientifiche ma serve anche affinare il proprio occhio e imparare ad osservare meglio il proprio cliente imparando ad osservare ci si accorge presto che ciascuno di noi può presentare delle imprefezioni nella postura spalle disallineate schiena leggermente curvata ginocchia valga e molto altro un massaggiatore sa che questi scompensi influenzano intere catene cinetiche che governano il movimento del corpo leggeri squilibri possono portare a grandi disturbi e dolori ecco perché intervenire sulla postura è molto importante siamo al secondo segreto da maestro tutti sono afflitti da atteggiamenti posturali scorretti interroga qualunque massaggiatore professionista e ciascuno di loro ti dirà la stessa cosa non esiste nessuno con un corpo perfetto privo di difetti chi lavora al computer rimane seduto ma ogni giorno siede in modi che danneggiano la schiena chi lavora in piedi bilancia il peso in modo scorretto scaricando le tensioni in punti specifici causandosi da solo non pochi dolori aiutare un cliente andando oltre il massaggio analizzando anche la sua postura e seguendo manualità volte a mitigare i danni è un grande segno di professionalità terzo segreto da maestro puoi insegnare ai tuoi clienti come prevenire futuri squilibri con questo massaggio la tua influenza uscirà dallo studio e continuerà a far sentire anche a casa del tuo cliente dove metterà in atto i tuoi preziosi consigli imparando a gestire le posture scorrette andremo anche ad imparare quali sono le pratiche per correggere e prevenire futuri problemi ad esempio potremmo insegnare al nostro cliente manovre di stretching che potrà praticare da solo in autonomia i nostri massaggi abbinati a uno stretching mirato daranno enormi benefici rendendo felice il nostro cliente che farà il nostro nome ogni volta che qualche suo amico collega avviserà dolori di simile natura se sei interessato ad imparare come praticare professionalmente il massaggio posturale contattaci e ti aiuteremo a trovare la sede di abasi più vicina a te Grazie a tutti!